Sicuro a livello di emozioni non è una partita come le altre prima che inizi, perché è chiaro lì sono stato quattro anni, sapete quello che è successo in questi quattro anni, grande soddisfazione, grande legame con l'ambiente, con i tifosi, un rapporto forte. Sicuramente nel calcio attuale stare quattro anni in un posto significa tanto e penso anche poi che questi quattro anni sono stati costellati da grande soddisfazione, ho ricevuto tanto, credo di aver dato tanto a questa piazza e questo non si può dimenticare. E' chiaro poi con l'esperienza che credo di avere ormai mi conosco bene, poi conterà solo quello che farà la mia squadra, dal fischio di inizio in poi sarò il dodicesimo di supporto ai giocatori che andranno in campo del Toro diciamo. Grazie a tutti.